Approvata una manovra senza alcuna difficoltà garantendo per il settimo anno consecutivo la tenuta dei conti. È un bilancio di previsione quello del 2003-2025 che rifinanzia i pilastri messi in piedi dalla regione Campania in materia di politiche sociali, trasporti, istruzione, politiche giovanili, voucher sportivi, interventi volti a contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa e il disagio minorile. Commenta così l'approvazione di bilancio il consigliere regionale Franco Picarone, presidente della commissione bilancio della regione Campania. Un bilancio che introduce anche nuove misure nella sanità per il potenziamento del sistema dell'emergenza urgenza regionale e per il superamento del dumping contrattuale nella sanità privata. Due norme che speriamo abbiano effetto perché non ci sono più medici nei pronto soccorso. Abbiamo fatto una norma che in via straordinaria consente di poter adeguare le tariffe per i dirigenti medici sanitari che vanno nei pronto soccorso e per quelli delle professioni sanitarie. Un adeguamento fino a 100 euro l'ora che consente di poter incentivare, che era una cosa che finora non si era potuta fare, i medici che vanno in pronto soccorso e un'altra norma che consente di prendere i dirigenti sanitari di materie affini. Sono due norme che possono aiutare la situazione. Poi c'è un'altra norma importante per i centri accreditati e che riguardano gli operatori delle professioni sanitarie. Noi tuteliamo con gli accreditamenti e con le tariffe per gli accreditamenti con una premialità le aziende che applicano i contratti nazionali con le norme più favorevoli per i lavoratori. a tutela del lavoro di queste persone e anche della qualità dei servizi. Una manovra di bilancio che guarda con attenzione anche alle politiche sociali così come al commercio dopo un lungo periodo di pandemia che ha messo in difficoltà e che purtroppo oggi continua a mantenere in difficoltà determinate categorie anche per l'aumento dei costi dell'energia. Sì, a parte tutta una serie di cose che riguardano l'incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili e delle cooperative di comunità abbiamo una norma molto importante per il commercio ambulante. In pratica noi abbiamo fatto una proroga della sospensione della carta di esercizio quindi del DURC fino al 2025 che è una boccata d'ossigeno per questi operatori che vengono da due anni di pandemia e vengono anche da un periodo di crisi economica molto duro. Credo che questi segnali insieme a tanti altri ci sarebbe da parlare veramente per tre giorni sono il segno di un'attenzione costante ma è importante pure sottolineare che tutto questo avviene sulla base di un risanamento dei conti di bilancio, conti che hanno una tenuta certificati dall'agenzia di rating, un bilancio che riesce a sostenere il servizio del debito, ha ripianato tutti i deficit ereditati e riesce a dare garanzia ai cittadini e agli enti locali della regione Campania. Un impegno di spesa che va nel segno della continuità anche rispetto all'anno passato dove quest'anno non mancano novità anche per quanto riguarda le persone vittime di violenza. Sì, abbiamo il fondo per le vittime di violenza di genere, abbiamo anche un fondo che consente di dare assistenza alle famiglie che debbono assistere queste persone vittime di violenza e c'è anche un'attenzione rispetto a chi ha dei disabili in casa adulti per dare sollievo appunto alla famiglia rispetto proprio al lavoro di cura che si fa in questi casi nelle famiglie. Insomma un'attenzione a 360 gradi, le norme sono tantissime e molto importanti per la tenuta del welfare in Campania. Ovviamente è importante anche che dal governo arrivino dei segnali in questa direzione. Devo dire che sulla frana di Ischia per esempio il governo non ha fatto niente, non ha fatto emendamento, non abbiamo fatto uno stanziamento addirittura maggiore e l'unico emendamento che è stato presentato è stato presentato dal Partito Democratico e predisposto dall'aggiunta della regione Campania e non è stato accolto. Invece anche qui c'è qualcosa per la frana di Ischia, poca roba ma quello che può fare la regione Campania l'ha fatto, anche qui la titanza rispetto al mezzogiorno e rispetto ai problemi della regione Campania da parte del governo.